Jessica Puciaceschi, opposta della GECOM Security Perugia, che con questo rotondo 3-0 contro Forlì si attesta al secondo posto. Insomma, un inizio migliore non poteva esserci per le magliette nere. Siamo state tutte molto brave, abbiamo lavorato di squadra e io ringrazio veramente tutta la mia squadra che lavorando insieme siamo riusciti ad ottenere un ottimo risultato in casa. E ringrazio anche tutte quelle persone che sono venute per noi qui a sostenerci e a lottare insieme a noi. Oggi era difficile perché si incontrava un Forlì che non aveva ancora conosciuto sconfitta. Vi siete compattate, è venuto fuori un 3-0 che trovare il punto debole è difficile e è il punto migliore. Cosa ti è piaciuto di più della tua squadra? Beh, mi è piaciuto il fatto che se ci sono stati magari degli alti e bassi, dall'altra parte c'è sempre stato un aggiustamento e quindi un lavoro di squadra. Se magari da una parte mancavamo in ricezione, dall'altra magari ci aiutavamo a vicenda. Forse la cosa che veramente ci porta adesso ad essere al secondo posto è il lavoro di squadra, che stiamo lavorando bene e speriamo sempre di far meglio. Poi un 3-0 secco così a casa è sempre piacevole. Cosa significa per te questo secondo posto? La classifica già si sta definendo, questo Perugia sarà protagonista fino in fondo? Deve, deve essere così.